E' di due feriti il bilancio della rissa scatenatasi nella prima serata di lunedì in centro storico. Secondo quanto emerso finora, un gruppetto di persone ha dato il via, per motivi ancora da accertare, a un parapiglia nella zona tra via Palermo e piazza Garibaldi. In base a una prima ricostruzione dei poliziotti delle volanti, alcuni dei partecipanti hanno impugnato anche delle sedie da usare come oggetti contundenti. Quando i poliziotti sono arrivati in piazza Garibaldi, molti dei responsabili si erano già allontanati. Uno dei feriti è stato trasportato all'ospedale Sant'Elia da un'ambulanza del 118, mentre l'altro è stato curato sul posto. Gli investigatori hanno ascoltato alcuni testimoni per cercare di identificare i partecipanti e per chiarire i contorni dell'accaduto.